Ragazzi, mi dovete togliere una curiosità. Io sono un esperto nel settore della sicurezza, sia personale, sia la sicurezza di beni, ok? È quello che faccio, è quello che mi occupo da tanti anni, che faccio nella vita fuori da YouTube. Poi mi reputo, mi reputavo, un esperto di comunicazione perché sapevo cogliere bene quali contenuti mettere su YouTube per fare 4 visual, cose che ormai non so fare più perché purtroppo ho un po' abbandonato e questo mi dispiace. Ma chi dice di essere esperto del trading, del forex, e magari nella vita fa tutt'altro, io non lo so. Io non... ovviamente ogni riferimento è sempre puramente casuale, non sto facendo nome e cognome di nessuno. Qua uno deve un po' spaventarsi anche a dire la sua, viviamo più nemmeno in un paese democratico, però io la penso così. Se hai una delle competenze devi averle maturate nel tempo, cioè se fai tutt'altro, ti trovi in tanti luoghi, in tante case, in tante chiese, in tante di quante indietro, improvvisamente, cioè io non lo so. Per me non è tanto credibile, per me. Questo non sto dicendo o diffamando qualcuno. Sto dicendo che chi ha delle competenze veramente fa vedere, cioè come posso dire, chi opera in questo settore farà vedere che avrà delle licenze, delle cose che io non le ho viste. Poi magari mi sbaglio, magari questi qua domani fanno un video contro di me e dicono guardate che io ho tutte le licenze e le fanno vedere a peso, ok. Allora a quel punto va bene, non so se ci voglio licenze, io sono un ignorante sotto questo aspetto. Sono un ignorante per cui se sto sbagliando, sto dicendo cazzate, mi assumo la responsabilità. Però secondo me certe persone che improvvisano, come anche nella politica, anche nella politica, improvvisano di essere politici, imprenditori, eccetera, eccetera. Io non sono credibile, io lo metto, io sono arrivato su YouTube per caso. Poi nel tempo ho acquisito una conoscenza che poi è elementare, attenzione, perché è una cosa che hanno fatto in molti, di poter capire quali sono i video che vanno, che non vanno. Ora non so nemmeno quanto farà questo video e neanche mi interessa. Però vi posso dire una cosa, io il mio lavoro vero, cioè non il gioco di YouTube, di Instagram, eccetera, preferisco tenerlo per me. Sì, ne parlo, anche eccolo qua, ogni tanto ho spiegato cosa faccio, ma io sinceramente le mie competenze, i corsi che faccio, che farò, di giornalmente, cosa preferisco tenerlo per me. Anche perché è una tipologia di lavoro che non richiede investimenti o altro, per cui non ho altro da aggiungere. Buonanotte.